Ciao, io mi chiamo Eros, sul web tutti mi conoscono come Eros Luca, ho un blog di moda prettamente maschile, si chiama Le Papillon by E.L. Scelgo come vestirmi in base a come mi sveglio ovviamente, un po' penso come tutti, quindi oggi indosso un pantalone bianco molto elegante insieme ad una felpa molto straight e quindi oversize e un paio di Ray-Ban Clubmaster. Allora il mio style è molto straight, mi piace sempre mettere un denim con una camicia abbinato ad una felpa, mi piace anche il look dandy però quelli soltanto in certe occasioni, molto street style. Ho scelto questo tipo di occhiale perché è un modello iconico di Ray-Ban ma poi soprattutto perché adesso abbiamo questo ritorno al vintage e Ray-Ban è top per questo brand, quindi soprattutto per questi occhiali e questi mi piacciono molto perché danno un look un po' retro e abbinato anche al mio look di oggi, quindi che non c'entrano assolutamente niente ma mixano, secondo me ci sta molto molto bene, quindi è uno dei miei occhiali preferiti. Ciao!